Eccomi qui ragazzi, che appunto era per caricare il telefono, marea dalle, oh alleluia, uh che c'è qui, che c'è qui, uh e vai, mi mancano solo due piume, eh qui, la vita, la vita è più importante, no qui non c'è, ah c'è un'altra scala, eh un messaggio, ok, oh, ah, senti Kratos che stai facendo, Kratos dai, qua Kratos non si è capito lui che cazzo vuole fare, non si è capito proprio, se lo devi mandare indietro avanti, non si è capito, Kratos, hai capito esattamente dove lo devi mandare, è vero? Kratos, ma hai capito dove lo devi mandare, è vero, eh? Oh, Kratos, e dai, e dai, e muoviti! Kratos, dai, non fare le cazzate, se le cose sai fare, più o meno qui, più o meno, più o meno? Oh! Eh, vabbè, ciao, non qui devo... Allora, la parte qua... Allora, la parte qua... Allora, la parte qua... Non è che per caso c'è un'altra statua Per chi è breve, per carità Scusatemi ragazzi perché non c'è mai rispetto Non c'è mai rispetto Ma che cazzo Ma io non capisco perché a piano Wow Ma cominciamo un buon bet Ok Ok Beh che dire raga Che è appunto meglio che chiudo Perché io con questo livello non ci sto a capire Non cazzo Perché appunto è qui Perché trovo qui Non capisco proprio se cosa cavolo devo prendere Non prendo né il masso Cioè io mi chiedo forse allora che deve prendere Ma forse Ma forse Ma anche è possibile una cosa Forse è anche possibile però anche questa cosa eh Non lo so Io ci voglio provare con tutto No aspetta 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 perciò appunto noi vi vendiamo domani mani con God of War e lasciate un like un commento iscrivetevi al mio canale e se volete anche chiedetemi appunto che portare diciamo in Mortal Kombat 9 a chi fa la scalata oppure portare scontri tipo Injustice 1 e 2 e anche appunto in futuro anche per Mortal Kombat 11 che poi mi comprerò tra pochi giorni spero il più presto possibile la Playstation 4 alleluia e anche la possibilità di giocare anche un po' meglio i videogiochi della 4 ma anche soprattutto anche inviate i miei video ai vostri amici amici che mi farebbe tanto piacere scusate un po' la digestione e detto ciò io vi saluto e vi saluto anche aspettate e vi saluto anche Kratos con qualche bella mossa oh ciao ciao